Io ho dato la mia disponibilità a fare la mia parte, a dare una mano per le elezioni europee. Ovviamente la decisione starà al partito perché rispetto profondamente le regole democratiche della nostra comunità. Io non chiedo niente, no, io non chiedo né ora né nel caso in cui il partito mi chiederà di candidarmi, deciderà il partito quale debba essere l'ordine di candidatura. Io credo che ci dobbiamo sentire tutti coinvolti in prima persona, amministratori locali, dirigenti in questa partita delle europee e sono convinto che Elislein metterà in campo tutte le migliori risorse sia del partito che della società civile perché la sfida del 9 giugno è una sfida cruciale, lo è per il PD, lo è per tutta l'Italia ma direi per l'Europa intera perché oggi l'Unione Europea è come un nuotatore in mezzo al fiume con la corrente che aumenta in modo critico e deve prendere una decisione velocemente o torna indietro da dove è partito oppure ci mette tutte le energie per arrivare dall'altra parte. Ecco, i nazionalisti, i sovranisti vogliono che il nuotatore torni indietro mentre i progressisti, gli innovatori come noi democratici vogliono che il nuotatore arrivi alla fine.